6 mesi in più per completare le indagini preliminari, è quanto chiesto la procura di Pavia al GIP nell'ambito dell'inchiesta di Asorin che riguarda lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi del Covid-19. Al momento sono 8 le persone indagate tra personale del Policlinico San Matteo e della società piemontese. L'inchiesta ipotizza i reati di peculato e turbata libertà nella scelta del contraente. I PM pavesi hanno sottolineato che entro l'11 gennaio, data in cui scadevano i termini, non si sono potute concludere le indagini preliminari, in quanto pur essendo state all'uopo compiute attività di rilevo, la complessità della vicenda processuale rende indispensabile ai fini dell'accertamento della verità nell'interesse della giustizia la prosecuzione delle indagini medesime. Nel luglio dello scorso anno la procura di Pavia aveva disposto una serie di perquisizioni e sequestri per fare chiarezza sull'accordo stipulato tra San Matteo e di Asorin per lo sviluppo di test sierologici. Secondo l'ipotesi della procura, la di Asorin sarebbe stata favorita a discapito di altre società potenzialmente concorrenti. Sulla richiesta di prorogare le indagini preliminari si dovrà ora esprimere il giudice. Nello scorso dicembre il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo l'accordo tra San Matteo e di Asorin, dopo l'annullamento disposto dal TAR nel giugno del 2020.